Contemporaneamente alla mobilitazione dei lavoratori Exilva, ad Alessandria hanno manifestato anche i dipendenti della GLS, l'azienda che si occupa di spedizione merci in Italia, in Europa e nel mondo. Ci spiega il motivo della protesta Gianluca Favar, driver della GLS Alessandria. Siamo qui tutti i lavoratori per rivendicare le problematiche che ci sono. Timbratrice che non c'è, orari di straordinario non retribuiti, furgoni non tanti in sicurezza, mole di lavoro altissima tra cui siamo obbligati ad uscire con consegne assurde, numeri assurdi, in cui non applicano neanche il contratto nazionale del lavoro. Alcuni dipendenti non hanno neanche preso lo stipendio, alcuni non hanno preso neanche lo stipendio del mese scorso. E niente, siamo qua per poter chiamare la nostra ditta a un incontro pacifico nel poter metterci d'accordo nel meglio possibile. Chiediamo almeno l'applicazione del contratto FEDIT, il contratto nazionale del lavoro, che con il sindacato Sicobas di Torino c'è. Un contratto eco, un contratto eco è normale per tutti.